ma hai fatto il riposino ti sei alzato hai ancora la faccia del cuscino cucciolo hai ancora la faccia del cuscino fatti vedere scusi guarda guarda dimmi se non ha la faccia ancora stampato fatti il riposino non ha fatto nessuna cosa tu non mi devi dire niente ma che cosa ti devo dire non mi devi dire niente ma di che cosa ti devo dire quella cosa che hai detto l'altro giorno mentre giravamo il video in tasca ad angela quella cosa in tasca che ti devo dare che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è in tasca ad angela dicesti ho una cosa in tasca che ti devo dare che cos'è non te lo posso dire la ti volevo non te lo posso dire se è quello che penso io se è ciò che penso io finisce male di che cosa io te lo ho detto questo è anche peggio di tutto quello che è successo di che cos'è di malpensante 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 di che cos'è capito Roberto non è conviste no tu non hai capito niente tu non hai capito niente io ho avuto una telefonata che mi ha fatto saltare dalla sedia ma ma quale 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 di quale quale cosa che hai avuto di che dai da una persona che lavora qua una persona che lavora qua ma ma che hai detto che puttanati ti ha detto che mi hai preso ancora una volta per il culo no non ti ho preso mai per il culo mai le birre le birre e posso continuare ancora tante volte come no se si vince come no che birra sa che non sa nessuna bene nessuna cosa all'epoca perché le si fatte e non hai detto niente hai fatto marcire la roba e non hai detto niente ma cosa è tutta roba la vecchia io non le faccio più mezzo no io le faccio mezzo perché questo sarebbe un'altra cosa che cosa hai in tasca che devi dare ad Angela? non sono cose che ti interessano a te no Lello invece interessa a me no 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 perché sei quello che penso io no 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 tu mi hai fatto fare anche delle cose per quella roba la no 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 Lello tu mi hai fatto fare anche delle cose ufficiali per quella roba la non è non è anche se scopro che quello veramente finisce a schifio sta cosa eh non è come pensi tu 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 perché tu le cose mie sei di me e sei di me e sei di alge una roba personale tu in mezzo non ti puoi mettere assolutamente non ti puoi mettere non è personale Lello è personale la cosa che dico io non è personale non è come pensi tu e l'olde non è ti ho mai chiesto cose personali di te e di Angela ti ho mai chiesto ho mai voluto sapere o vedere no perché sono cose vostre me ne frega nulla questa cosa non è personale non è come dici tu non è se capi vuoi dire tu non è come dici tu e dove vuole arrivare non è non è il proprio dove vuole arrivare non è il proprio dove vuole arrivare questo giro guarda ti faccio piangere ma non per la lacrima del sonno ti faccio piangere veramente questo giro eh che senso ti fa sfatare non ne hai che cosa? la fa sfatare questa cosa si dice perché è una cosa che tu non devi sapere no Lello se è quello che penso io non solo devo sapere ma ci devono essere delle conseguenze per questa cosa qua non è che puoi pensare di fare sempre quello che vuoi non è quello che dici tu non è che dici tu non è che dici tu non è che dici tu no ho capito voleva non è come è quale è la cosa che secondo te io penso no no non ti posso dici perché le persone non ti capisci quando mi stanno dicendo sopra te non ti capisci torna là e ti sto lasciando andare lasciando andare lasciando andare e ti lasciando andare ma non saluto ancora di più e che cosa dicono senti no eh ci dico a te stai tutto la mattina una sera perché se vedi un picco stai tutto la mattina una sera e vedi un po' le coglionate che dicono io andrata l'oltre che mi sono stancato mi sono stancato davvero mi sono stancato veramente cos'ha in tasca o niente non adesso mi riferisco a quella cosa là che hai detto ad angelo una cosa in tasca per te che cos'è non ho niente per te non ho niente non ho niente è blu no 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 non ho niente 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 lello una cosa sono le cose private e su quelle non ci metto mano e non ci metto becco una cosa invece se fosse davvero quello che penso io quello che mi è stato raccontato da chi da qualcuno che sa io mi sono proprio una puttanata ora mi sono proprio una puttanata proprio una puttanata proprio una puttanata proprio una puttanata sai dire proprio una puttanata le coglionate che ti hanno detto e sono assai non è lei non è la puttanata è assai e assai la puttanata che ti hanno detto e che sono ad esce non è vero niente e perché mi devo fidare sentiamo perché ti devi fidare e perché perché si perché pure dall'altro ci sono i malintesi a morire ripeto ed adesso una cosa la wouldta essere mani significa due di trampa e seconda a вже conseglierò e inserita comunque anche se non lo vedi cioè la lì diciamo che ci si asts anche se non lo vede aівere visto che non hanno l city da fare più avete provato ma se ti ti diranno sicuramente abbiamo orecchiamo anche dirle direttamente a me, non tramite te. No, non te la faccio venire a te, perché il mondo su di parlare a me non piace, a te non te la faccio venire, perché non è una persona come deve essere, perché poi lui stesso, dove è stata invitata, a tutte le parti dove va, faccio i trottoni da morire, ma a morire, dove va, per la serie, molto trascinato, ma a me non so dove è andato, un paio di mesi fa, un trascinato, io che esce, questa persona, non mi interessa. Che cos'hai nella tasca del giubbotto, in camera? Guarda, non c'ho niente. Nell'altro giubbotto. Nell'altro giubbotto sta a lavarsi, sta a boscio in lavandere, c'è un lavato o meno, questo non lo so. Ti ho detto che dovrei questo al ragù. Perché è la verità che sto a dire, non è cazzata, non è puttanata. Non è come dici tutto, no. Io le cose, allora se per questo, mo ti dico un'altra cosa, come tu hai detto a mio padre, all'epoca che ci ha lavorato nelle presepolizia, eh, io sono stato in due tribunali, due, due, i giorni da capisci, cos'è proprio potrebbe essere, io sono entrato da parte e dall'altra, ho fatto sempre il signore. Il problema è che poi si è uscito. C'è una cosa che si è uscito. Che sono la canosca? Dove la canosca che sta mettendo in fronte? E si trasmette molto da te. Che è il problema? E ora chiedi a vedere, fai il penale, come stanno tutti e due? Ciavalli, rispondono a questa domanda? Eh? Ma se io mi lasciassi ieri, che ne ho parlato anche a Coriglia, per uscire senza di te, se io mi rispondo, o con te o zero, sì! Vabbè, non lo sanno in retroscena. E poi mi fai conto. E lo devi dire anche al giudice, questo particolare. Poi là devi stare chiusa ad Adelfia, che tu senti così là, puoi finire pure molto prima e tu puoi finire a portare a te, non per la tua signora. A te devi stare meglio a me, che hai fatto un signore di chiù, per la birra, tappa, io non bevo, che non mi ascolta il caos. Vabbè, non lo sanno in retroscena. Una sera a cena l'ho chiamato. No, non ci ho chiamati a te. Vabbè, ci siamo chiamati e ho messo una bottiglia di birra sulla penita. E la penita? Che si dice? Noi ho sigillato e prendi l'ospite. E non l'ho bevuto. Ascolta, e ci venga qua, con l'ospite, c'è cosa da fare? C'è cosa puoi andare a bere? L'acqua. L'acqua, l'acqua non la bevete tu come sto a bere. Ma proprio una confezione d'acqua, non si prende a te per piacere. E credo che mi sa, una confezione di acqua per contarsi per piacere te lo chiedo. Cioè, se tu vieni a casa mia, io come ospite dovrei darti la birra. E come me? È il minimo. È il minimo. Grazie, c'è della Coca-Cola. No, non può bere neanche la Coca-Cola perché non sta bene. Ci sono detto a te. Dobbiamo rifare l'esame. Fa sei mesi. Eh, quando rifacciamo l'esame sta prima. Ascolta un attimo, muovendo. Ascolta un attimo.